Slot Machine fu rilegge al mattino a tarda sera. Si tratta della nuova ordinanza del sindaco di Trentinara, Rosario Carione, per contrastare la forte dipendenza da gioco, che si sta registrando nel piccolo borgo cilentano. Infatti, secondo i dati dell'inchiesta dell'Espresso, sono 1700 gli abitanti che nel 2016 hanno speso 1.360.000 euro, circa 830 euro a testa. Quando ho letto quel dato mi sono seduto un attimo e ho pensato, devo fare qualcosa, ha affermato sconcertato il primo cittadino. In effetti ha subito provveduto ad emettere un'ordinanza secondo cui gli apparecchi potranno essere messi in funzione nei locali autorizzati, soltanto dalle 15 alle 22. Inoltre è previsto l'obbligo di esposizione di un apposito cartello, in luogo ben visibile al pubblico, contenente in carattere evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi convincita in denaro e al contempo l'obbligo di esposizione all'esterno del locale, di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi, ciò con l'obiettivo di ridurre il tempo che i giocatori impiegano davanti alle slot machine, in particolare nelle fasce orarie, in cui è più probabile l'accesso delle persone per le quali è maggiormente rilevante un intervento di tutela della salute, gli anziani e gli adolescenti. Tra l'altro il sindaco è sorpreso anche dal fatto che a giocare sono spesso persone in difficoltà economiche. Se avessi potuto farlo, ha sottolineato il sindaco, avrei messo al bando tutte le slot machine, ma per il governo sono legali. Ora spero che in molti seguano il nostro esempio.